eccoci qui siamo sempre in diretto sul lago di varano con il maestro e il direttore del coro peppino blenks il coro della pia unione come è nato questo coro e la pia unione è rinata c'è stato un periodo che poi c'era all'antichità e poi è ripresa si sono formati un'altra volta e in occasione è nato questo coro qua vanta circa 17 18 anni che esiste se loro eseguono sia i canti religiosi che canti popolari prettamente popolare del posto di schitella di schitella si infatti la canzone che abbiamo cantato prima era pavì di fundanette praticamente era un momento dica che canzoni ci fate ascoltare adesso perché purtroppo il tempo non c'è molto potremmo stare qui a parlare amici scurparato e che vuol dire amici diciamo proprio affegatati così sono un parà scorparati amici legati 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 e allora come si suol dire musica maestro grazie a tutti grazie a tutti